Vedere, visitare un carcere è sempre importante per tutti, è un dovere per un ministro, perché in una visita pur breve, pur condizionata da forti limitazioni, ho potuto rendermi conto di quello che già sapevo, cioè che questo istituto penitenziario è un istituto che ha tante criticità, a partire dalla struttura, dagli edifici, dai locali, per continuare con le condizioni generali che portano a situazioni di aggressione nei confronti della polizia, che sono situazioni gravi, difficili da gestire, difficoltà di vigilanza, ma anche condizioni che mettono i detenuti in situazioni tali da praticare più che in altre carceri forme di autolesionismo o tentativi di suicidio. Tutto questo richiede delle risposte articolate, complete, ma venire a vedere, a visitare, in questo caso ha anche significato iniziare a vedere che ci sono dei lavori in corso, ho potuto con i miei occhi constatare che non si tratta solo di progetti, ma una forte, importante ristrutturazione straordinaria in atto, ma quello che mi preme di più sottolineare è che questa è stata un'occasione di una mobilitazione di tutte le autorità coinvolte.